Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Yandere Simulator. Oggi siamo all'interno del canale di Reuben che ci ha lasciato due bellissimi concept che adesso andremo ad esaminare insieme. Il primo è più recente, si intitola dare la scossa ad Asurito durante una gara di corsa e questo mi sembra abbastanza inquietante e molto yanderoso come concept, vediamo insieme di che si tratta. Come sempre trovate il canale di Reuben in descrizione e anche i suoi concept. Se non vi siete iscritti iscrivetevi perché è bravo e se lo merita! Oggi vedremo un'eliminazione di Asurito e se ne sono viste poche finora di eliminazioni di Asurito se ci fate caso. Oggi in particolare Asu sta allenando la sua squadra per spiegargli come fare in modo di essere pronti per una competizione che riguarda il cardio, quindi la corsa. La squadra si va a preparare per l'allenamento e quindi ognuno va nello spogliatoio. Asurito è l'unica a andare nello spogliatoio delle ragazze ovviamente. Ecco tutti quanti si stanno posizionando e sono pronti per iniziare ad allenarsi, infatti sono partiti tutti nello stesso momento. Se guardiamo come corrono i ragazzi ci rendremo subito conto che qualcuno è molto più lento degli altri. Ecco invece Asu e il suo potenziale spasimante sono in testa e mentre continuano gli allenamenti la distanza tra chi è veramente in forma e gli altri sta aumentando. Asu sembra essere sempre la più veloce in assoluto, seguita a ruota da ragazzo con i capelli arancioni. Qualcun altro invece è rimasto palesemente indietro e deve un attimo fermarsi perché non ce la fa più. Ehi, ciao, sei un po' stanco? Esattamente come pensavamo noi la persona più debole è stata la prima ad arrendersi e abbiamo capito anche quanto tempo gli ci vuole prima di aver bisogno di riposarsi. Oh, si è fermato un altro ragazzo. Ecco, si è fermato anche il terzo ragazzo. Si è fermato anche il quarto ragazzo e sono rimasti in piedi soltanto i due leader che continuano a correre infatti. Ok, ci siamo liberati degli altri ragazzi della squadra, ma come facciamo ad attaccare Asu se uno dei ragazzi più forti della scuola è sempre appiccicato a lei e ovviamente stiamo parlando di lui? Qui Reuben ci fa notare una cosa importante. Itachi è quello che erediterebbe il club degli sport nel caso che Asurito morisse, come era prima infatti il leader prima che lei arrivasse. Il che significa che per non far chiudere il club degli sport dobbiamo fare in modo che lui sopravviva, così ci saranno abbastanza membri per far rimanere in piedi i club. Quindi lui va sabotato e non ucciso, ma come possiamo fare a sabotarlo? Beh, qui vedo un bellissimo secchio d'acqua e dobbiamo farlo scivolare. Ma a nessuno sembra strano che Ayano stia qui nel mezzo della pista a buttare acqua proprio sulla corsia del ragazzo con i capelli arancioni? No, sembra tutto normale. Va bene, come desiderate voi. E infatti lui arriva lì, non si accorge di niente e cade. E adesso che è caduto, se ne va via perché si è tagliato a quanto pare deve correre in infermeria a farsi dare un cerotto. Tra l'altro è anche fuori dalla gara per un po', quindi si leverà dalle scatole definitivamente, almeno fin quando ci servirà che sia fuori dalle scatole. Ecco, l'ho andato in infermeria, povera stella. Ha pure battuto una capocciata. Adesso che lui è fuori dai giochi ci servirà un modo rapido per eliminare Asurito e magari riusciremo a chiedere aiuto agli oggettini del club di scienze. Questo per esempio è una batteria con altissimo voltaggio che potrebbe servirci durante la settimana di Asurito. Così almeno ci saranno degli oggetti nuovi che possono tenere il gioco sempre aggiornato, questo sempre nell'ipotesi che Yanderev aggiunga delle nuove armi di eliminazione nel corso delle settimane. In effetti è una batteria ad alto voltaggio che a tutto l'aspetto della radio potrebbe aiutare a dare la scossa in maniera ancora più efficace. Noi già sappiamo che i ragazzi cominciano a smettere di correre in ordine uno dopo l'altro che rimarrà in pista soltanto Asurito, il che significa che dobbiamo aspettare che lei sia rimasta l'unica a correre per fare in modo di sistemare la nostra trappola, mentre gli altri sono troppo distratti a riprendere fiato. Ecco, forse questo qui potrebbe essere il momento giusto, ormai è rimasto soltanto un ragazzo che è già insieme ad Asurito. Perciò buttiamo l'acqua per terra proprio adesso. Ovviamente l'acqua da sola non farebbe nulla, ci serve anche la batteria ad alto voltaggio. Perciò buttiamo la batteria qui e aspettiamo che lei ci passi sopra. Anche se una batteria così in mezzo a una pista è un po' strana, ma magari uno lì per lì non ci fa caso. Anche se mi sembra strano che nessun altro abbia notato Ayano, ma ok. Ecco, Asurito si sta avvicinando, non ha notato niente, continua a correre e ha preso palesemente la scossa. Povera Asurito che fine ingrata. E così Ayano se ne può andar via tutta soddisfatta perché nessuno si è accorto di niente. Brava Ayano, sei riuscito a farla franca anche stavolta. E siccome siamo particolarmente sadici, portiamo anche il corpo direttamente nell'inceneritore. Tanto i delinquenti non ci sono, quindi nessuno ce lo impedisce. Addio Asurito, sei stata una valida rivale. Ciao ciao! Quindi ragazzi, cosa ne pensate di questo metodo di eliminazione? Onestamente Asurito non mi sta così antipatica da volerla morta, ma vedremo cosa combinerò quando uscirà effettivamente all'interno del gioco originale. Un altro dei concept rilasciati dal Reuben si intitola Finire la carriera di Saeku e rendere Megami il nuovo CEO della Saeku Corp. Vediamo un po' che cosa fare. Qui abbiamo Megami che sta guardando il suo computer. Sì padre, ho capito. Per quanto tempo sarai lontano dal lavoro? Purtroppo non c'è dato a capire esattamente cosa risponde lui, ma ok. Cosa? Ma come faccio a diventare il CEO io adesso, proprio in questo momento? Ma sei soltanto un pochino malato, per favore cerca di riprenderti. Io ho bisogno che tu torni prima possibile. Va bene, cerca di riposarti, buonanotte. Ma perché proprio in questo momento si deve essere ammalato? Vabbè, fare in modo da non farmi buttare giù da un piccolo imprevisto come questo. Ah Kuroko, come tu ben saprai mio padre non sta molto bene in questo momento. Ho bisogno di qualcuno che prenda questa lettera, è molto importante. Quindi per favore, fai questa cosa con attenzione. Spero che non sarà un problema per te, vero? Assolutamente no, mi prenderò cura di questa lettera, non ti preoccupare. Non vorrei essere invadente Megami, ma... Che cos'è questa lettera esattamente? Sono passati 25 giorni ormai da quando mio padre si è ammalato. Se non si riprende alla svelta, io dovevo essere allontanata da scuola, dovevo diventare l'amministratore delegato della Saeku Corp. Questa è una lettera per il peside per informarlo dell'accaduto. Adesso che sappiamo questa piccola informazione, non dobbiamo far altro che fare in modo che la previsione di Megami sia veri e far fuori appunto il signor Saeku, senza far fuori direttamente Megami. Ma in questo modo ci libereremo comunque di lei, perché diventerà il CEO della Saeku Corp. Useremo la radio per allontanare Megami fuori dalla stanza del consiglio studentesco, così potremo cercare la lettera. Qui nella libreria, davvero? L'avete seriamente nascosta nella libreria? No, qui non c'è, meno male. Era nascosta un po' meglio di così. E nell'altra libreria invece? Sì, nell'altra libreria c'era e per fortuna Megami non si è accorta di niente. Quindi via da qui, velocemente. Perfetto, adesso dobbiamo andare fino all'ospedale dove è ricoverato il babbo di Megami. Guardala lì Ayano che va a prendere l'autobus con i pantaloni e la maglietta nera. Hmm, c'è qualcuno qui. Ciao. Non so chi tu sia, ma farei una brutta fine comunque. Dunque, attenzione, per raggiungere il padre di Megami devi prima passare attraverso questa stanza, così che tu possa raggiungerlo, ma se sbagli devi rifarti tutta la settimana a capo. Quindi questo metodo di eliminazione è particolarmente difficile da fare. Effettivamente stiamo letteralmente entrando in una stanza all'ospedale per ammazzare una persona, quindi non è proprio la cosa più semplice. Questi immagino che siano tutti dipendenti della Saiku Corp o qualcosa del genere, ma davvero nessuno si accorge di questa qua che sta strisciando sul pavimento? Incredibile ragazzi, com'è che nessuno la vede? Ok, va bene che Ayano è brava a essere stealth, ma questo è incredibile comunque che nessuno l'abbia notata. E questa è la stanza di ospedale dove appunto c'è il babbo di Megami, il computer con cui probabilmente si tiene in contatto con lei, che ovviamente è aperto sulla pagina di Reuben. Ah, così proprio? Così con cattiveria? Eh, mamma mia! Ma non era meglio fargli una puntura di tranquillante, piuttosto? Così è un po' sospettina come cosa, anche perché come esci di qui conciata in questo modo, Ayano? A quanto pare nessuno l'ha notata. Ok, buon per lei. Ops, Megami, devi lasciare la scuola, è successo qualcosa di brutto a tuo padre, adesso sei la nuova CEO della Saeko Corp, addio! Ok, lo ammetto, come metodo è interessante, ma lo trovo un tantino forzato, perché che Ayano riesca a passare tutta quella stanza piena di persone senza che nessuno la noti, ma soprattutto che uccida il signor Saeko in una maniera così drammatica e violenta, e che riesca a uscire di lì tutta sporca di sangue senza essere vista, mi sembra un po' eccessivo. Comunque sì, il concept è interessante e spero che Yandedev possa prenderlo e svilupparlo meglio, anche perché alla fine siamo un po' lontani da Megami, quindi qualche spunto ci sta. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento, mi raccomando, scrivetemi nei commenti quale di questi due concept vi è piaciuto di più. Probabilmente io ho apprezzato di più quello su Asurito, però devo dire che anche quello di Megami ha molto molto senso, magari con qualche modifica però sarebbe meglio. Grazie a tutti e alla prossima, con il magico mondo di Ayano che è diventata una stalker che meglio non si poteva essere super stealth, e Kira e Tenalov, ciao! E mi raccomando, iscrivetevi a Reuben e magari anche a me. Ciao ciao! Ciao!